Come avrete notato nelle mie rubriche, io parlo di diritto, ovviamente cerco di dare delle informazioni legali, ma non solo questo, anche perché tutto sommato gli utenti possono tranquillamente andare su Google, scrivono mantenimento figli e trovano il mondo, affidamento dei figli, separazione, divorzi, io credo che l'avvocato debba intavolare un dibattito profondo con i propri seguaci, followers, amici e quant'altro, proprio per discutere di questioni di fondo importanti. Partiamo dal presupposto che il diritto di famiglia è una materia per avvocati specialisti, non per avvocati che fanno di tutto di più. Oggi vorrei affrontare la questione dei matrimoni lampo, che sono una vera e propria piaga del nostro Paese, cioè persone che si sposano dopo pochi mesi di fidanzamento, che non si conoscono nemmeno, o attraverso le agenzie matrimoniali, o perché si sono conosciute sui social, o perché l'orologio biologico dice che bisogna fare presto, perché altrimenti poi è troppo tardi, o perché mamma si potrebbe dispiacere se il figlio o la figlia non convolano alle giuste nozze. Io l'ho scritto nel mio libro I perplessi sposi, oggi è soltanto in formato ebook su Amazon, in cui spiego che i matrimoni lampo, i cosiddetti speed marriage, come li chiamano gli americani, sono delle separazioni ormai annunciate. Io credo che non mi preoccupa il fenomeno delle separazioni, mi preoccupa il fenomeno dei matrimoni al buio, senza aver convissuto magari neanche tre mesi, senza aver cercato di capire quali sono gli aspetti caratteriali dell'altra persona, senza essere pronti per un passo così importante. Per cui chi si separa sicuramente molte volte affronta con coraggio una scelta di vita, ma non affronta con coraggio una scelta di vita chi si sposa semplicemente perché è arrivato a una certa età o perché crede di mettere la testa a posto così. No, i matrimoni senza conoscersi, senza sapere chi è l'altro, sono dei disastri.